Sabato 20 ottobre il gruppo Trekking Lo Scarpone di Sella di Corno ha festeggiato insieme al GEV di Magliano dei Marsi la conclusione del corso AER, accompagnatori escursionisti regionali, con la consegna del tesserino della qualifica conseguita dopo il corso. Il corso è stato di 60 ore, si è sviluppato in 9 mesi a partire dal gennaio del 2018. Sono stati trattati argomenti e materie riguardanti l'organizzazione, la sicurezza, l'orientamento con cartografia GPS, la natura e l'ambiente montano. Il corso, che si è svolto a Sella di Corno e a Magliano dei Marsi, è stato superato brillantemente e sono stati formati così e qualificati ben 16 accompagnatori regionali per lo Scarpone di Sella di Corno e 8 per il GEV di Magliano. La finalità del corso è stata quella di dotare le due associazioni trekking, affiliate alla Federazione Italiana Escursionisti FIE, di figure qualificate alla conduzione di gruppi in montagna durante le escursioni. Alla cerimonia erano presenti i presidenti, Silvia Brunelli per lo Scarpone di Sella di Corno e Giovanni di Girolamo per il GEV di Magliano, il delegato FIE della Regione Abruzzo Sergio Mattei, il tecnico federale FIE responsabile degli accompagnatori nazionali della formazione Ugo Stocco, il sindaco di Magliano Mariangela Miconi e gli assessori del comune di Scoppito Francesca Rossilli, Pamela Soncili e Alessio Albani. Grazie. Grazie.